Palazzo Ducale di Urbino ha ospitato mercoledì sera l'Assemblea annuale di Confindustria Pesaro Urbino alla presenza del Presidente Nazionale degli Industriali Carlo Bonomi. Titolo dell'Assemblea, la nostra impresa fra pubblico e privato binomio possibile. Un binomio sollecitato dallo stesso Bonomi e dalla Presidente Provinciale di Confindustria Alessandra Baronciani che al termine del suo secondo anno di mandato ha fatto presente come il settore sia pronto ad affrontare le complesse sfide di ambiente, sicurezza, infrastrutture e immigrazione. Io ho vissuto da Vice Presidente con Mauro Papalini la pandemia, pensavamo di esserne usciti ed è arrivata la crisi energetica, la guerra in Ucraina, oggi l'orrore della guerra di Gaza e che per il momento sicuramente siamo tutti focalizzati solo su quello che sta succedendo perché veramente prende le coscienze di tutti ma poi avrà una ricaduta importante sull'economia mondiale perché comunque poi sull'energia ricade tutto e su tutti i prodotti, sull'inflazione, cioè a catena abbiamo visto cosa è successo con la crisi energetica, con la guerra in Ucraina adesso ancora stiamo pagando per questa cosa con l'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione e quindi la difficoltà anche dei salari che perdono potere d'acquisto. Adesso vediamo cosa succederà, purtroppo siamo tutti molto preoccupati per questo. Qui mi sento a casa due volte, prima perché sono in Confindustria, che è la mia vera famiglia dove di fatto ho sempre operato nella mia vita, per cui da imprenditore e da rispettoso del lavoro mio padre era operaio, mia mamma era insegnante elementare, io lavoro come primo motivo all'articolo 1 della Costituzione, il lavoro ci deve accomunare poi possiamo avere idee diverse su tantissime cose, anche il bello della democrazia ma sul lavoro non possiamo dividerci, il lavoro non si fa per decreto, lo costruiscono le imprese questo perché è casa mia, secondo perché questa comunità la sento molto vicina la comunità adriattica per la storia e per il modo garbato con cui ci si pone sempre ma anche molto tenace e molto testardo, perché penso che temi che hanno affrontato che sono temi che si possono risolvere, è giusto che vengano risolti e non è un vantaggio solo di peso, di urbino, di questa comunità, delle marche ma è un vantaggio per tutta l'Italia.